Ciao a tutti ragazzi sono Lone the Wolf e benvenuti in questo nuovo video. Non siamo su Clash Royale ma il discorso può sicuramente interessarvi per quale motivo? Perché sono qui perché voglio regalarvi delle gemme. E voi starete dicendo quante gemme a quante persone? Ragazzi il numero è limitato da voi stessi. Quante più persone seguiranno questo video e dunque la procedura che tra poco vi andrò a spiegare e tante più gift card da poter regalare avrò. Dunque subito come fare? Allora prima di tutto chiaramente devi essere iscritto a questo canale perché chiaramente per andare a regalare la gift card la regalo a un mio iscritto dunque nella sezione mia di YouTube nella dashboard degli iscritti andrò a controllare se effettivamente chi commenterà con hashtag partecipo è realmente iscritto al mio canale. Seconda cosa dovete lasciare un bel like a questo video e condividerlo ovunque. Infine ragazzi in descrizione vi lascio un link su cui dovrete cliccare per scaricare un'applicazione e adesso vi spiegherò come ricevere questo regalo di gemme o comunque potete spendere come volete la gift card che riceverete in due semplici passaggi. Una volta cliccato esclusivamente sul link che vi rilascerò qui sotto nei commenti e in descrizione vi si aprirà un'applicazione che è Cash4Apps che sicuramente conoscete. Se l'avete già installata ragazzi basta disinstallarla, cliccare sul link che vi fornisco io e reinstallarla con un altro login di un'altra mail. Una volta aperta questa applicazione vi darà 20 punti a voi e qualcosa di simile anche a me. Questi punti chiaramente mi permetteranno di accumulandoli chiaramente di arrivare alla cifra tale da comunque spenderli in gift card. Dato che vorrei anch'io dare qualcosa a voi oltretutto all'affetto che mi date voi ho deciso di spendere questi punti in quale modo? Regalandovi queste gift card che accumulerò. Io vi faccio vedere subito tramite l'aiuto della grafica ragazzi ho sempre voluto dire tramite l'aiuto della grafica manco fosse un programma sportivo. Siamo già a 4884 punti ragazzi vi giuro questi li ho fatti se sparo una cifra a caso in 10 giorni ma sicuramente dovrebbero essere 8-9 giorni. Andando installare le varie applicazioni che mi consigliava appunto Cash4Apps sono riuscito a raggiungere 4884 punti. Se noi andiamo su rewards che dovrebbe essere tipo premi una roba del genere vediamo che con 3500 punti ragazzi abbiamo già una gift card Apple mentre a 3300 troviamo quell'Android. Questo cosa vuol dire ragazzi che io ho già una gift card da 10€ posso già regalarvela. Comunque ragazzi una volta scaricata e aperta Cash4Apps vi da ovviamente la lista delle applicazioni da scaricare. Cosa bisogna fare? Andiamo su un'applicazione qualunque io ad esempio installerò questa CoinDoser e vi rimanderà ovviamente al Google Play Store piuttosto che all'Apple Store. Andate a cliccare su installa. Una volta terminata l'installazione bisognerà semplicemente aprire l'applicazione di seguito dopo averla chiaramente installata e provarla per un tempo tra i 2 e i 3 minuti. Una volta che avrete ovviamente provato questa applicazione come sto facendo io in questo momento l'applicazione Cash4Apps vi darà una notifica e dunque vi aggiungerà i vostri punti totali il punteggio che vi dava questa applicazione o un'applicazione in particolare. Come vedete ragazzi dopo aver provato appunto l'applicazione mi è arrivata la notifica hai ricevuto 39 punti la richiesta è stata completata e siamo già passati a 4923 cioè ci ha aggiunto i 39 punti di questa applicazione. Potete fare questa procedura tutte le volte che volete almeno in base alle applicazioni che avete potete comunque scaricarle tutte cambiano praticamente ogni giorno e dunque oltre alla possibilità di ricevere una gift card da me potete anche accumularla voi stessi. La cosa importante ragazzi è che voi condividete questo video con più persone possibili in modo che anche ad una volta se condividono questo video possa arrivare al maggior numero di persone in modo appunto da accumulare tanti 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 punti e dunque andare a spalmare molti più premi su molte più persone. Che fai? Ti fai scappare l'occasione di ricevere una gift card gratis? Dunque ragazzi mi raccomando seguite tutti i punti necessari direi che per questo video è tutto vi invito a lasciare un bel like come sempre a condividere il video e ad iscriverti al canale come dicevo questo video tutto noi ci vediamo alla prossima e ciao